o qualsiasi cosa, a esposizione. Comico, attore, cabarettista, volto dei tre tre, ancora molto amato dal pubblico a decenni di distanza dal grande successo in trasmissioni come Drive-In, venerdì 26 marzo alle 20.05 sul canale 16 del Digitale Terrestre, Edoardo Romano sarà ospite della trasmissione Prospettive per raccontare i suoi progetti futuri, ma anche per ricordare a quanti in questo periodo difficile stanno fronteggiando problemi sul lavoro o, peggio, un lutto, che in momenti di scoramento non sono mancati neanche nella sua carriera e nella sua vita privata, ricordando la perdita della giovane moglie. Quando succedono queste cose, poi nel tempo bisogna vivere un bel ricordo delle persone care che scompaiono e non vivere nel ricordo. Quindi è importante questo, perché comunque ricordare poi soprattutto le cose più belle. Grazie. Grazie.